POS, Toma ignora il Consiglio, i portavoce del Movimento 5 Stelle esortano la conferenza dei sindaci ad impugnare il piano operativo sanitario. I grillini tornano alla carica dopo il voto di Palazzo Daimmo. Il presidente commissario è sempre più in preda ad un delirio di onnipotenza, si legge in una nota. Il Consiglio regionale ha chiesto chiaramente la revoca del piano operativo sanitario, un piano adottato con un atto di imperio senza alcuna concertazione Di tutta risposta, il sovrano assoluto, aggiungono i portavoce pentastellati, dichiara di voler andare dritto per la sua strada, rigettando le richieste dell'assise e l'ormai sacrosanto invito alle dimissioni. Di fronte a questo scenario surreale, tutti hanno il dovere morale di opporsi. In particolare, dicono i pentastellati, la conferenza dei sindaci, uno degli organismi deputati, a redigere pareri sul POS. Ci aspettiamo che l'invito del sindaco Gravina non cada nel vuoto e che la conferenza impugni ufficialmente il piano sanitario, ma i 5 Stelle vanno oltre e valutano la possibilità di chiedere all'assise regionale di impugnare il POS anche davanti al TAR. Non la daremo mai vinta, si legge ancora nella nota, a chi ha l'arroganza di ignorare le richieste dell'intera popolazione molisana.